Ischia, questa magnifica isola ubicata in regione Campania, purtroppo colpita da dubbi fragili ma soprattutto da trombe d'aria, strade letteralmente allagate, ricche d'acqua, è un bilancio brutto quello che vede la città o meglio l'isola in questione, protagonista del maltempo. Vi ricordo infatti che da un po' di ore è arrivata un po' più d'aria fresca in Italia, nel nord soprattutto, però è passata anche un po' al centro, ma per proprio Ischia risente attualmente parlando di temporali, piuttosto violenti nella zona di Forio, Forio che si voglia, ma anche proprio nella regione Campania, Casamiccio, tanto per citarne una. Le trombe hanno creato dei danni piuttosto ingenti, sono state viste, quindi proprio avvistate, proprio ripeto all'algo di Ischia in regione Campania. Tra l'altro manifesto, ma io vi informo del fatto che c'è stato un incidente tra ben due navi traghetto oggi 22 luglio 2024 nel porto di Pozzuoli e sono entrati in collisione, restando incagliate per più di due ore di tempo. Insomma, la situazione non è così bella, da come si dice sul web, è abbastanza brutta, speriamo che ovviamente tornerà a migliorare nel giro di qualche ora, ma non è certo perché dicono che nel nord e in alcune regioni anche del centro, il maltempo ci sarà. Bene, male, non bene. Iscrivetevi, commentate e una buona giornata a voi tutti.